Buongiorno a tutti, settimana più importante del mese di dicembre, oggi in realtà non ci sono molti dati macro rilevanti, anche se poi ovviamente daremo uno sguardo a quelli contrassegnati con tre stelle da investing, ma da domani si fa sul serio perché uscirà l'inflazione negli Stati Uniti, mercoledì avremo la Fed, giovedì la BCE e venerdì le scadenze tecniche trimestrali, per cui questa settimana deciderà l'esito del mese e comunque anche la variazione definitiva dell'anno 2022 che dai minimi fortunatamente ha avuto un recupero anche abbastanza significativo, ma ripeto tutto si decide in questa settimana. Adesso vi condivido lo schermo e vediamo subito i futures americani che sono poco sotto la parità, a parte il Russell 2000 che è più 0,13, il DAX in questo momento meno 0,22, l'Eurostox meno 0,53, se poi andiamo sulle borse asiatiche abbiamo un Ikea più 0,21, un Topix a meno 0,33, l'Hanseng a meno 0,84, l'Ishare meno 3,06, qui c'è una correzione piuttosto pesante, Singapore meno 0,28, Cospi meno 0,48. Vediamo alle notizie macro, vedete che è contrassegnato con tre stelle solo il PIL annuale mensile e trimestrale in UK che esce tra meno di 20 minuti, poi la produzione manifatturiera e ancora la variazione su base trimestrale del PIL, però ripeto da domani si fa sul serio. Ci sono però molte notizie price sensitive sul mercato, guardiamo anche i grafici dei titoli che ne sono interessati. Eni ha annunciato sabato l'avvio della produzione di impianto fotovoltaico di TataWin nel sud della Tunisia, l'impianto ha una capacità di 10 megawatt, fornirà alla rete elettrica nazionale oltre 20 gigawatt, però attenzione che non è secondo me una notizia price sensitive, però Eni l'abbiamo già sottolineato nel video di ieri, è in una situazione tecnica piuttosto delicata per cui è su un supporto statico fondamentale, per cui è un titolo che va comunque monitorato indipendentemente da questa notizia che io ritengo marginale e io sicuramente è un titolo che oggi proverò a coprire per un'operatività in controtendenza long e il target potrebbe anche arrivare addirittura sotto 13, abbiamo prima la media mobile a 50 che è 13,162, poi questo minimo del 31 di ottobre è 12,89, quindi Eni assolutamente da monitorare. Leonardo ha sottoscritto un contratto di finanziamento per 260 milioni di Euro con la Banca Europea per gli investimenti, la famosa BEI, finalizzato a promuovere le attività di ricerca, sviluppo innovazione nel campo dell'elicotteristica, della sicurezza per la difesa dello spazio e nonché delle attività di ricerca svolte da Leonardo Labs, contribuendo allo stesso tempo alla lotta dei cambiamenti climatici. Leonardo, l'abbiamo vista anche questa ieri, come avesse fatto il titolo un engulfing beerish nella seduta di venerdì, il primo livello è area 7,50, dove invece proverò io ad acquistare è area 7,30. Questa mi sembra già più significativa come notizia e riguarda Unicredit. Unicredit, il requisito patrimoniale di secondo pilastro richiesto dalla BCE nell'ambito del processo SREP potrebbe leggermente aumentare rispetto all'attuale livello, ma conferma la guidance sulle politiche distributive per il 2022 e per di futuro sul funding plan e sul target di capitale. Ha aderito per circa 29 miliardi di Euro all'offerta odierna BCE di rimborsi anticipati dei finanziamenti TL-TRO terza versione. Ecco, l'importo mi sembra sinceramente piuttosto significativo. Comunque, graficamente, anche questa l'avevamo già vista, si è appoggiata al rialzista, partita dai minimi del 29 di agosto. Intraday venerdì l'aveva persa, perché comunque ha fatto un minimo a 12,10. La chiusura è stata poi a 12,53, quindi su debolezza è un altro titolo che io oggi proverò. TOTS, Deva Finance, che fa capo alla famiglia della Valle, rinuncia al piano di fusione per incorporazione della società e quindi ha il suo delisting dopo l'insuccesso dell'OPA. Quindi, liberi tutti su TOTS, io mi sembra di averlo già detto, ma sapete quanto desideri essere trasparente al massimo nei vostri confronti. È un titolo che ho nel mio portafoglio di medio-lungo periodo. Ovviamente dobbiamo capire l'impatto che può avere sul mercato, questa notizia al momento non possiamo esserne certi, perché comunque il mercato si aspettava questa operazione di incorporazione nella società di controllo, nella holding di controllo. Il target ribassista dove provare un ingresso è 31,82, ma oggi vedremo come si muoverà il titolo. Per quanto riguarda invece Telecom, anche qui abbiamo approfondito l'andamento del titolo nel video di ieri, le notizie al di là di KKR sono sempre più o meno le stesse, sta sondando l'interesse degli investitori per i suoi asset, mentre all'interno del nuovo governo, guidato da Giorgia Meloni, si cerca di trovare un accordo su come risolvere le difficoltà dell'azienda, hanno detto a Reuters alcune fonti a conoscenza della situazione. Io, come vi ho detto, sono entrato venerdì, ho uno stop sotto 0,192, vi ribadisco il mio target che è chiusura gap a 0,23,3. Ecco, intesa San Paolo, questo mi ha sorpreso perché Unicredit 29 miliardi per i rimborsi anticipati del TRO versione terza, intesa 5,5, quindi questo diciamo che mi lascia abbastanza stupito per la differenza di controvalore, comunque anche intesa l'abbiamo già vista, io continuo a aspettarla sotto 2, l'ideale è poco sotto 1,97. Banco BPM invece, questa offerta di rimborso è stata accettata per, è aderito per 12,5 miliardi, anche qui avevamo già valutato che il titolo potesse arrivare fino a 2,972, anche se il primo target ovviamente è il ritest della media mobile a 50, 3,04. Poi abbiamo ancora Enel, però devo dirvi subito che come per Eni anche questa non è una notizia che io valuto in maniera così significativa, ha perfezionato la cessione del proprio business della trasmissione elettrica in Cile con un effetto positivo sull'indebitamento netto da 1,5 miliardi di Euro, avendo un debito a 65 miliardi non mi cambia la sostanza e non cambia il mio giudizio per cui vedo il titolo in un tentativo di distribuzione e io ovviamente comprerò solo su debolezza, il primo target potrebbe essere poco sopra 5,05, poi addirittura il minimo del 23 di novembre 4,88,2 anche se c'è probabilmente poco sotto 5, un secondo livello intermedio. Snam sceglierà il suo sito offshore per la nuova unità galeggiante di stoccaggio e rigassificazione nei prossimi 100 giorni in seguito alle complicazioni legali per l'ubicazione iniziale a Piombino, però anche qui non la considero una notizia così significativa, il titolo come avevamo già potuto notare ieri è in un laterale piuttosto stretto, poco sopra i livelli attuali, transita la media mobile a 200, 4,91,2 e sotto c'è a 4,6,87 la media mobile a 100, quindi per il momento mi sembra probabile una continuazione del trading range di breve periodo. Ultimo titolo oggetto di notizie price sensitive, anche questa però non particolarmente significativa, a mio avviso che Zwolland ha acquisito una quota di minoranza in Stout Industrial Technology, start up statunitense attiva nelle soluzioni smart basate sull'intelligenza artificiale per l'agricoltura. Altro titolo di cui ci siamo occupati è in area di massimi storici, vi ricordo che ho detto più volte che avrei gestito nel caso fosse stato nel mio portafoglio la posizione con uno stop profit sotto 15,09 e avrei tentato un nuovo ingresso poco sopra 14,40. Per il punto di questa mattina abbiamo concluso, auguro buon trading a tutti, oggi non sarò presente alle fonti perché Manuela Donghi è impegnata in tour per la promozione del libro, noi ci aggiorniamo dopo la chiusura del mercato diurno. Buon trading a tutti!